Giovedì 10 novembre 2022 è la grande occasione, partiamo con la nostra sigla Ben ritrovati ragazzi, sto carico a pallettoni oggi, già ve lo dico, è così dovete essere tutti voi tutti noi tifosi razziali, ben trovati, questo è il canale Forza Lazio, veloci, bibubba, via vi ricordo il nostro sito, canaleforzalazio.com, subito col video in sua impressione voglio vedervi, iscrivervi numerosi, perché siete in tanti a vedere questo video, questi video la mattina e sono pochi quelli che poi diventano followers del nostro sito mi fa piacere, voglio che entrate nella community del nostro sito il video ve l'ho appena mostrato, è facilissimo, forza ragazzi, forza qui sotto invece nel sottofancia scorrevole ecco qua che vi mostro tutte quelle che sono le nostre realtà Facebook, Instagram, Twitter e basta è il nostro canale YouTube che rappresenta la nostra priorità assoluta quindi subito un grazie agli iscritti, un grazie ancora più grande agli abbonati che davvero in maniera concreta ci supportano mensilmente con una quota davvero piccola simbolica che però nel suo piccolo ci dà aiuto un euro e 99 al mese, è facilissimo abbonarsi entrate nel canale, cliccateci abbonati, è facilissimo grazie soprattutto anche agli amici che ogni giorno perché io li leggo i commenti, non rispondo perché chiaramente se mi metto a rispondere a tutti non lavoro però ogni giorno oltre a vedere il video della mattina lo commentano anche e quindi un grazie specifico proprio tu che commenti tutti i giorni sentiti chiamato direttamente in causa, ti mando un grazie con tutto il cuore per il tempo che dedichi a noi un grazie chiaramente alle nostre amiche aziende, ristorante La Palazzina San Cesario e la GF Credit di Giacomo Fabri, del nostro Giacomo Fabri con Giacomo Fabri questa sera alle 19 cenetta a base di cinese, ci andiamo a mangiare un cinese al volo poi si entra nello studio perché il cinese è là vicino allo studio e poi saremo in diretta a partire dalle 20.45 per vivere insieme Lazio-Monza quella partita che ho riepilogato, ho riassunto, ho rappresentato in tre semplici parole la grande occasione mentre gli altri continuano ancora gli altri, intendo gli altri tifosi della Lazio, continuano ancora a parlare di derby per me il discorso derby è finito da due giorni è la grande occasione ma c'ho una marea di cose da dire anche oggi perché è la grande occasione? martedì il Milan non va oltre il pareggio con la Cremonese ieri la Roma pareggia col Sassuolo e è successa una cosa in quella partita vergognosa perché il Sassuolo pareggiato e a tempo scaduto un contropiede di tre giocatori col Sassuolo contro un difensore della Roma un contropiede che si stava trasformando in un 2 contro 0 contro il portiere e basta è stato in maniera clamorosa interrotto dall'arbitro per andare ad ammonire il solito Mancini che prende un cartellino a partita che aveva fatto un fallo a metà campo quello che è successo ieri col Sassuolo è qualcosa di scandaloso e mi espongo in prima linea scandaloso ma resta il fatto che la Roma pure ha mezzo toppato pareggiando con il Sassuolo ma clamoroso ma vero a Lecce a Lecce l'Atalanta ha perso cosa vuol dire questo? e lo dicevo ieri ancora prima delle partite di ieri sera per la Lazio oggi c'è l'obbligo di vincere contro il Monza non ci sono cacchi beh giocando male come ti pare oggi è fondamentale portarsi a casa questi tre punti oggi il Monza si deve presentare allo stadio olimpico conscio che gli lasceremo le briciole conscio che ci portiamo via tre punti perché la Lazio con tre punti allunga sulla Roma più quattro aggancia il Milan al secondo posto si apre tutta un'altra prospettiva tutta un'altra prospettiva e ci sono anche altre partite oggi è un momento durissimo per la Lazio difficilissimo ma mi fermo un attimo qua mi fermo un attimo qua e dico l'Atalanta la Roma che toppa costantemente la Juventus neanche a dirlo il Milan ragazzi lo ribadisco ancora una volta sto per dire perché tanti adesso nella vostra testa qual è il ragionamento che potrebbe scattare? porca miseria avessimo vinto a Genova con la Sampdoria e avessimo vinto con la Salernitana adesso Tucco cinque punti in più oggi se vincevi ti portavi a tre punti dal Napoli questo è il ragionamento prima di tutto con i se non si va da nessuna parte secondo non so che fa male quello che sto dicendo ma per me è la mia verità nella valutazione annuale di una squadra ci sta a pareggiare all'ultimo minuto con la Sampdoria ci sta pure a perdere con la Salernitana fa parte di quei scivoloni stagionali che tutte le squadre tutte 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 accusano e ve lo dico oggi le avrà anche il Napoli che è l'unica squadra ad oggi a parte se non sbaglio un pareggio casalingo con Lecce ad un aver registrato brutti scivoloni fa parte del del normale andamento della proprio della stagione ma è quasi della vita vi capita mai voi state sempre del buon umore dove capita nei giorni down fatemi capire è la natura è la normalità in campo ci vanno degli uomini quindi la classifica della Lazio alla fine è quella che è giusta per come la vedo io è dura torno alla partita di oggi mi focalizzo è una partita dura dura di buono c'è che il Monza non verrà qui a difendere perché è una squadra che di indole prova a fare gioco e va bene anche se verranno qua chiaramente con l'intento di strappare il pareggio la Lazio non sta messa bene c'è Lazzari con una spalla sotto sopra Patrick che avrebbe dovuto far rifiatare Casale invece ha avuto ancora un risentimento ieri al ginocchio e a sto punto santa pausa solo per sto punto di vista per recuperare in pieno tutti i giocatori e quindi sarà confermatissima presumibilmente al centro della difesa ormai la coppia che è davvero ragazzi granitica Casale-Romagnoli a sinistra il sontuoso Marusic sarà confermato a centrocampo presumibilmente giocheranno Luis Alberto il rientrante Milinkovic come sto contento tranquillo pensando che rientra lui e Cataldi che non si tocca per lo stato di forma che ha adesso in attacco cancellieri a destra Felipe Anderson confermato attaccante centrale con Pedro a sinistra vi ricordo che Ciro Immobile da oggi torna disponibile in panchina potrebbe fare anche qualche minutaggio nel secondo tempo per poi essere lanciato lo abbiamo scritto ieri nel nostro sito per poi essere lanciato dal primo minuto nel big match di domenica prossima domenica sera contro la Juventus è una situazione tosta tosta adesso viene a mancare anche Zaccagni Luiz Alberto ha un problema al polpaccio insomma la Lazio deve stringere i denti ragazzi la Lazio adesso deve fare gruppo si deve unire penso alle alternative là davanti perché Pedro per esempio per me non può farsi tutta la partita non ce la fa esplode pure se prova a gestirsi pure nonostante la sua grande esperienza Pedro gioca così è uno fatto di scatti di cambi di direzione repentini di strappi quindi questo è Pedro e allora ci sono anche delle soluzioni che non sono state mai provate solo quando si fece appena male immobile si provò questa soluzione una sarebbe rappresentata da Milinkovic al centro dell'attacco con Felipe Anderson che si sposterebbe a destra o a sinistra e cancellieri a destra e vi ricordo che Luca Romero ormai va considerato fortemente fortemente alternativa pura vera agli attaccanti perché con questo stato emergenziale questo è pure Zaccagni l'uomo più in forma colui che aveva fatto più gol nelle ultime cinque partite più assist ce lo siamo giocato purtroppo l'altra soluzione che è quella meno convincente ma che ci può stare potrebbe essere quella in corso d'opera di avanzare Lazzari a destra far uscire appunto Pedro spostare adattare cancellieri a sinistra oppure addirittura adattare Felipe Anderson a sinistra con cancellieri centrali d'attacco avanzare la zero a destra come vi ho detto facendo entrare gli usai delle alternative estreme ci sono ma perché vi parlo di queste alternative perché la Lazio è in uno stato emergenziale e la partita di oggi non è facile per niente la Lazio oggi la classica partita da 1 a 0 sofferto da 1 a 0 all'ottantesimo minuto all'ottantacinquesimo minuto io questo mi aspetto mi auguro che la Lazio mi smentisca andando a vincere 2 a 3 4 a 0 subito facile facile ipotecandola subito ma ho i miei dubbi che possa essere una partita del genere è una Lazio che e oggi e oggi ragazzi avremo la prova del 9 sull'Europa League l'approccio all'Europa League e quant'altro oggi è campionato è pur sempre una partita di giovedì oggi capiremo se la Lazio è un discorso psicologico di approccio alla partita del giovedì oppure se proprio l'Europa League non gliene fregava una mazza parlamoci chiaro ragazzi questo è quindi è una gara assolutamente importante fondamentale delicata che temo tantissimo non me parlate più dei derby a me del derby non me ne frega niente l'ho già cancellato ipotecato io esco da questo tipo di provincialismo basta solo l'ultima cosa l'ho fatto con ritardo perché io gestisco tutto da solo e quindi i tempi sono quelli compatibili con i miei impegni di lavoro e di famiglia ieri sera intorno alle 10 10 e mezza abbiamo pubblicato sul nostro canale youtube la live reaction del derby ragazzi andate a vederla in tanti mettete tanti mi piace condividetela mettiamo un bel record di visualizzazioni sulla live reaction così almeno ci date questa piccola soddisfazione l'avrete capito che sto a 2000 vedo l'ora che arriva stasera adesso mentre sto per finire di registrare questo video sono le 7.46 devo andare in ufficio forza Lazio dai ragazzi che ci facciamo compagnia pure stasera tra un po' andrò a programmare la live quindi attivate la notifica così appena partiamo ci trovate in diretta per belli miei che vedevo di forza Lazio siamo fortunati di attivare questa meravigliosa squadra ciao a stasera a stasera a stasera